Ciao a tutti amici e amiche, bentornate, ben ritrovati in questo nuovo video. Allora, ieri ho fatto queste fustellate e ho iniziato un po' a colorarli con questi pastelli della Jackson acquerellabili. Vi ricordate tanto tempo fa l'unboxing di questi pastelli? Beh, niente, ho colorato un pochino, così tanto credo che lo userò a pezzettini, quindi tutto va bene, ok? Allora, ho visto un commento, mi chiedeva una ragazza, adesso vi dico, rispondo direttamente a lei, a cosa serve mai questa cosa? Allora, io mi sono armata di minipad perché voglio andare a prendere la definizione di file folder, per chi come me fosse un po' negata con l'inglese, traduttore, ci vuole, ci vuole. Allora, file folder, mi pare che sia portafogli, documenti, file folder, cartella di file, dai, portadocumenti, no? La traduzione credo che sia quella. Allora, intanto chi mi fa la domanda? Andiamo a rispondere un po' a... intanto vedo se ci sono altre domande, altre cose, altri commenti. Con calma, eh. Ok. Claire, 1975, che saluto, mi chiede, mi dice, è sempre più affascinante vederti all'opera, Milene, io la ringrazio con tutto il cuore. Eh, ok. Poi, ma quanto mi piacciono i tuoi video, non solo per le cose che fai, che risultano sempre molto facili, cioè alla mia portata, ma anche molto belle. Ma soprattutto mi piace ascoltarti perché mi fai rilassare. Eh, Gilda, lo cascio. Grazie, tesoro. Sei un amore. Eh, grazie, grazie. Lo sai che a me fa sempre piacere quando mi si dice che i video sono rilassanti, eh? Perché, come dico sovente, in periodi che sono i nostri tempi, in cui si è sempre di corsa, questo e quello, fa sempre piacere trovare qualcosa che comunque rilassa e distraere un attimino. Eh, and me, Luke, Lucrezia. Ciao, tesoro. Eh, mi dice, è molto carina la tag trasparente, le adoro anche io, le sto, le sto studiando in tutti i modi, a quadrata, a rotonda, a taschia, a tag. Mi piace, mi piace proprio la trasparenza inserita nel junk o in questi file folder. Poi, correggetemi se sbaglio, eh, che non abbiano un altro nome. Questo sul video di oggi, che per voi è di ieri. Allora, il mondo di Karin mi dice, interessanti i donatori. Non so, probabilmente gli è intervenuto il correttore, la scrittura automatica. Non capisco cosa possano essere i donatori. Vabbè, dai, aspettiamo, vediamo se si corregge, magari. Eh, bene la carta da caffè, come la fai? Eh, allora, ho fatto diversi tutorial, ho fatto... Allora, vabbè, te lo spiego velocemente, la spennello col caffè. Praticamente, col caffè, che questo qua è d'orzo, ma viene anche bene col caffè d'orzo, eh, viene un po' più chiara. Eh, comunque, io li faccio col caffè normale, eh, preparo un bel recipiente, poi ho un bel pennellone grande, eh, su una tavola di legno, così, eh, spennello da una parte, giro su una tovaglietta o su un'asse che poi vado a mettere al sole, e spennello anche dall'altra parte. E poi li faccio sovrapposti, eh, o proprio uno sull'altro, o li sfalso leggermente, e in questo caso rimangono dei segni dell'altro foglio, rimane tutto un, un... così. Però se li vuoi omogenei, io li metto uno sull'altro. Metodo che va molto bene in estate, ma non d'inverno, perché, eh, d'inverno ci metterebbero troppo tempo. Eh, eh, e allora d'inverno li stiro. Li stiro proprio tra due carte da forno e li stiro, ci va un po' più tempo, infatti mi pento sempre quando d'estate non riesco a fare abbastanza fogli. Ok, ehm, poi mi dice, bella la cartelletta, ecco, ma non ho capito cosa serve, è sempre il mondo di Karin, eh, lei. Allora, eh, come ripeto, mh, allora, non è che debba servire precisamente a qualcosa, eh. E, eh, insomma, se sei amante del, della carta, eh, del Jean Journal, del Midori fatto con gli inserti, fai da te, insomma, tutto ciò che riguarda il nostro mondo cartaceo, Allora, io l'ho pensata così, vedendolo all'americana e mi sono chiesta anch'io, a cosa te ne fai di queste cartelle poi? Ma, io l'ho pensata così, per dire, come dicevo ieri nel video, eh, magari, che ne so, a Natale una che non ha voglia di fare un intero December Daily, cioè, dal primo al 30 di dicembre, no? Tutto dicembre, giorno per giorno, un diario, magari, però, vuole raccogliere qualche, vorrei, cioè, nel mio caso, raccogliere qualche ricordo del Natale, no? E allora, ecco che, magari, una cosetta così, con qualche foglio, qualche taschina per biglietti e bigliettini e tutto, può bastare. Oppure, può essere, semplicemente per ricordi, non so, a seconda di una come li vuole riporre, potrebbe essere un'idea, oppure un evento, un, che ne so, uno fa un particolare weekend, se lo mette tutto in cosette così, oppure, niente, niente di programmato, semplicemente, uno per, per, gli piace mettere qualcosina delle sue cose lì, non ha un, un utilizzo preciso, ecco. Eh, ok, poi mi scrive Arumitani, ciao, tesoro! Eh sì, sono mancata per un po', sì, sì. Eh, Milena, che bellezza, rivederti sul tubo, ci sei mancata, l'estate serve anche a ricaricarsi e ti ho trovata più riposata. È vero. È sottointeso che mi dispiace per la perdita, sì, di tuo marito, che, sappiamo, ha perso la sua nonna. La Big Shot, un grande acquisto, mi è stata regalata due anni fa ed è un vero gioiellino, ti consiglio anche di dare un'occhiata ad Aliexpress. Eh, sì, troverai fustelle a prezzi stracciati, uno, due euro o meno, giuro diventa una droga, la paghi pochissimo e hanno anche le due basi trasparenti, sì, della Sixit, per quanto le tue si spezzeranno, sì. Io sto finendo il mio primo DJ e ne sono veramente soddisfatta, l'ho utilizzato per i ricordi di alcuni viaggi. Tendo a conservare dei plan, biglietti, scontrini, carte da ristoranti o musei, eccetera, 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 eccetera. Lo leggo perché qualcuno potrebbe anche prendere spunto, visto che spesso mi si chiede cosa serve il John Journal, questo è quello. Questi sono gli utilizzi, no? Vacanze, c'è chi ama proprio raccogliere qualsiasi pezzo di carta per poi riporlo come ricordo nel John Journal. È stupendo. Oppure, appunto, nel caso di un weekend potrebbe anche essere un'idea questa, no? Allora, è un piacere guardarlo, ok? Sto aspettando per domani l'occhiellatrice, ok? Milena, ma così mi fai diventare ancora più curiosa, ci fai un aggiornamento della craft? Sarebbe comodo per recuperare qualche idea? Perché sto aspettando che arrivi in negozio una tovaglia specifica, trasparente con i brillantini, per montare il mio nuovo tavolo. A presto, Milena, riempici di video. Ok, belle quelle tovagliette. C'è una ragazza che ora non ricorda nome, che con quelle tovagliette lei ci fa delle cartellette per il Midori, proprio con la cerniera. Belle, belle. Ok, ciao tesoro! Ah, tra l'altro approfitto per ringraziare tutti i nuovi iscritti che sono tantissimi, tantissimi. Cioè nel periodo che io sono mancata ho avuto tantissime iscrizioni. Era il discorso che facevo di YouTube che probabilmente fa girare di più i tuoi video vedendo l'assenza, probabilmente per incentivarti, non lo so. Però questa è una cosa che ho notato anche la scorsa volta che sono mancata per un bel periodo, ecco. Comunque grazie. Lena Angelino, ciao tesoro! Bentornata cara, come sempre sei organizzatissima e soprattutto hai comprato delle cosette utili e bellissime. Sì è vero, è vero. Non ho badato a spese, devo dire che mio marito è stato troppo dolce. Non lo so perché aveva qualcosa da farsi perdonare. Ok. Cristina, 1976, mi dice bentornata Milena. Io non ho più il tempo per far nulla, ho avuto il mio pupino il 10 luglio. Ok, cosa è successo? Allora questo qua è un iPad molto vecchio. E tutta la giornata ruota intorno a lui. Ma il tuo video li guardo sempre, prima o poi mi torneranno utili. Ciao! Ma certo, tu intanto guarda. Sai per quanto ho guardato video io prima di lanciarmi a fare qualcosa? Tutto, cioè me li sono girati tutti, soprattutto dei Midori. Ok. Auguri per il tuo pupino, eh. È sempre una cosa bellissima quando non si ha tempo perché si ha avuto una bella maternità, un bel bimbo, no? Ok, bentornata da Emilia Adelfio. Ciao, grazie tesoro, un bacione. Francesca B mi dice bellissima idea quella della scatola, mi sa che te la copierò. È tutto bello quello che fai. Beh, a sto punto devi farci vedere la tua postazione. Ok, 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 la farò, la farò. Datemi solo il tempo di riordinare un pochino perché fa in fretta a rendersi impresentabile, soprattutto quando i mobili sono tanti. Comunque non vi aspettate niente di bello, eh, ve l'ho detto. È comoda, ma non è la classica craft room come quelle che vedo dalle americane. Tutte belle bombognera, sciccose, no, no, no. Però è comoda, quindi a me va bene. È più laboratorio la mia, ecco. Francesca sempre mi dice brava, hai fatto bene a prendere la Big Shot, però guarda che poi le fustelle diventano una droga. Anche io odoro il caffè d'orzo. Anzi, mi hai fatto venire voglia, adesso me la preparo. Sì, è buonissimo il caffè d'orzo. Ah, allora, a proposito di AliExperts, che mi diceva anche Mayla. Uh, adesso. Arumitani mi diceva. Io, come dicevo, avendo preso delle fustelle da AliExpress, devo dire che non mi sono trovata tanto bene. Perché proprio questo non sono mai riuscito a farlo per intero, perché non me lo taglia bene. Però, vabbè. E poi anche tutti gli altri li ho presi, i primi li ho presi tutti da AliExpress. Però, vabbè, dai. È da tanto che non faccio acquisti, eh, da Ali. Devo ricominciare un po'. Emy Van mi dice, ciao, mi fa piacere rivedere i tuoi video, grazie Emy. Grazie mille. Eh, Sonia M mi dice, ma ciao carissima Milena, sembra così, ma per chi segue sempre una persona e guarda ogni suo video, come io guardo te, veramente mi sei mancata. Sono contenta di rivederti. Belli gli acquisti che hai fatto, penso sia un desiderio di tutte le cartopazze avere la Big Shot. È vero, è vero. Sono contenta per te che sei riuscita a prenderla. Ora, non vedo l'ora di seguire i tuoi video, un abbraccione grande a presto. Grazie, Sonia. Grazie di cuore, cara. Sì, ho fatto uno sforzo pazzesco a riuscire a prendere, anche perché, come sapete, c'è stato anche il computer, il salotto, tante spese. E vabbè, boh, dai, uno risparmia, risparmia anche per quello, per riuscire a fare alcune cose, no? Visto che non siamo milionari, bisogna risparmiare, risparmiare, però poi alla fine anche concedersi, no? Io non ho bambini, quindi, ecco. Lucia Borasca, ciao cara, un bacione. Mi dice, ciao, belle le novità ed anche i programmi per i video futuri, ma l'importante è che tu sia finalmente tornata. Grazie, cara. Mi mancavano i tuoi video, mi piacerebbe tu facessi vedere come ti sei organizzata per avere tutto a portata di mano. Anche io mi dimentico spesso di usare tutte le cose che ho e vorrei rendere la mia postazione più efficiente, bentornata. Infatti, infatti, allora tu mi capisci bene. Alle volte uno, magari che adesso si mette al computer, comincia a stampare 3.000 cose, questo, quello, quello, poi le ripone in un punto e se le dimentica. E a me succede questo regolarmente. Poi magari, quando rimetto in ordine, dico, ah già, ma avevo anche questo, avevo anche quello. Ma poi è anche proprio una questione che sono tanti gli elementi, no? E magari mentre fai, faccio un esempio un po' così veloce, mentre fai una tag, non ti viene in mente tutti gli elementi che potresti mettere dentro per variare, per fare delle cose. Guarda, a me capita questo. Quindi se ho a portata di occhio, neanche di mano, tutto quello che è possibile mettere, io mi perdo. Faccio poi sempre le stesse cose. Ok. Qui non c'è, come mai non c'è il nome? C'è solo, non me ne capacito. C'è solo l'omino dell'account, ma nessun nome. Mi dice, ciao ci sei mancata, anche io devo riordinare tutte le carte e i cartoncini e tenere sotto occhio tutto quello che ho, perché finisce che poi lo ricompro. No, questo non mi è ancora successo perché mi ricordo quello che compro, ma magari non lo trovo. Molto bene. Ok, agli altri commenti ho risposto e quindi direi che può bastare. Comunque, niente, grazie perché mi avete fatto un calorosissimo bentornato. Grazie, grazie, grazie. Veramente, non mi aspettavo tutto questo calore. Allora, dicevamo, no? Niente di che, io volevo farmi un po' di queste cose, non è che volessi fare grandi invenzioni, tutti noi facciamo queste cose qua, però io le faccio con voi. Allora, adesso, sapete cosa faccio? Siccome viene davvero tanto tenue coi pastelli, io volevo fare qualcosa di un po' più colorato, li farò con un po' di acquerello. Questo qua è l'acquerello liquido che è... Mamma mia, troppo. No, no, questa qua è veramente una pessima idea, è della pompetta. No, 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 è proprio una pessima idea perché il più va a finire nella pompetta. Niente, scherzavo. Cosa volevo dire? Cerco di farli un po' meno tenui. Allora, poi ieri ho anche sbagliato pennello. Praticamente l'ho fatto alla veloce. E niente, non... L'ho fatto malamente, diciamocelo pure. Allora, volevo solo fare un po' di background. Però magari prendere un bicchiere d'acqua per pulire il pennello non è una cattività. Arrivo subito! Adesso finirò col bermi l'acqua dell'acquerello, eh. Allora, però prima faccio anche qualcos'altro. Ce ne faccio ancora qualcuna, così. Allora, mi è stato richiesto... Quando è che fai un junk journal autunnale? In effetti... Ehm... Allora, questo qua lo faccio solo... Vediamo... Mi piacerebbe farlo vario pinto, nel senso di mettere magari... Del viola qui, così. E poi all'interno qualche altro colore, tanto per... Che poi questi difficilmente li userò interi, eh. Li userò a frammenti... Quest'acquerello è stupendo. Questo invece magari lo dipingo di viola all'interno. Sì, dicevo, no, del... Del... Del junk autunnale, che sì. Anche io voglia di fare un junk autunnale. Quindi... A breve, a breve. Volevo solo finire questo file folder, che adesso mi sto perdendo a fare questi abbellimenti, ma... Non so neanche io perché mi sono messa... Eh, ma perché questi elementi servono... Servono proprio nel... Per fare i junk journal, quindi... Cioè, queste cosette qua, no? È bello averle pronte. Sì, non ho tantissimi colori, molto bene. Prendo il rosso... Eh. Lo prenderò col pennello, perché... Beh. Non mi piace proprio sporcare... Cioè, sprecare tutto il prodotto nella competta. Ma... Colori molto particolari. Però io conto poi di rimetterci il gesso, eh, su. Quindi... Non che poi, ovviamente, altre cose. Timbratine. Allora, questo lo lascio così, con una punta di... Di bianco. Allora, questo lo l'euro? Stavo pensando se metterli qui dentro Però io qui di solito cerco queste cose qua Invece qua sicuramente dove ho fatto questi fiorellini magari cerco questo tipo di Perché io devo anche guardare dov'è che vado a cercare la roba no? Allora vabbè a parte le tag questi fiorellini li metto qua Così almeno so che ci sono magari ne farò anche altri E appunto magari li completerò con del gesso Però magari li lascio così per adesso Ok Questi infatti erano molto più tenui Ma non so sono quegli elementini che aver pronti va sempre bene Le tag Probabilmente qualcosa lo userò adesso Questo anche magari lo metto qua Così potrò staccarne dei pezzi Questi invece Questi invece li metterei qua Ammesso che non so se sono asciutti Ma Asciughe qua non ci stanno Allora io mi devo fare un nuovo porta Di questi qui Allora io in questi Questo mese e mezzo mi sono appassionata Innamorata letteralmente di Gail Agostinelli E lei fa dei portadocumenti spettacolari Una sua iscritta Gli ha mandato in regalo Uno di quelli così come li fa lei Però lei aveva il problema Che Allora poniamo il caso Erano fatti così no Fate finta che Che sia carta Con dei pezzi di O carta da lucido O Altri tipi di carta Semi trasparente o trasparente Anche questa stessa pellicola Non pellicola Le cartellette trasparenti Messe però Su Una cinque A finestra così A tasca così Perché parlo male Tasca Allora lei aveva il problema Che la colla non le teneva Quindi la colla dell'americana Non è così Poi Infallibile Le si scollava La ragazza Ha fatto un lavoro Stupendo Io ci avevo anche pensato A questa cosa Ma non avevo pensato Alla soluzione Che non so se è quella Che ha adottato lei Cioè lei le ha cuciti a macchina Però fronte e retro A me sembra che però I suoi siano perfettamente Combacianti E' un lavoro Certosino Riuscire a farla Cioè a applicare Una di qua E una di qua Col filo Una sola volta Cucendo col filo Fronte e retro Una sola volta E' un lavoro Davvero Minuzioso Che io non ho voglia Non riesco a fare E allora ho pensato Di farlo Su un foglio Cucirlo a macchina Fare l'altro foglio Cucito a macchina E poi Attaccare insieme I due fogli Addirittura Lasciarli Aperti In modo da poter Inserire anche lì Qualcosina Non so se mi sono Spiegata Ma siccome è un progetto Che voglio fare Lo farò Insieme a voi Se A qualcuno interessa Sicuramente Io lo farò Ok Adesso questi qui Sono ancora Un po' umidici Li lascio Qui ad asciugare Puliscono Solo un po' Allora Io qua Ho ancora Questa taschina Qui Molto bella L'attacherei Qui Proprio Attaccata Tutta quanta Magari Lascio La doppia Tasca Oppure No Perché tanto Più di tanto Non ci si mette Dentro Dai va bene Così La metto Così Ok E adesso Qui Qui appunto Vedete A me piace Mettere molto Questi angoli Adesso qua I colori Sono abbastanza Sgargianti Ma Appunto La mia idea Era passargli Un po' Di gesso Per unificare I colori Mamma mia C'è solo più borotalco Qua sul fondo Allora Facciamo così Non sembra Ma Questo gesso Fa subito Un altro effetto Quando i colori Richiedono Un po' Di Come dire Sfumatura Ecco Adesso Lo faccio Asciugare Un attimo Così poi Gli passo Anche Il distress Metto qua E direi Che il gesso Bianco Lo metto qua Così Vado a rifarlo Allora Questa Andrà qui Devo fare Qualcosa Da mettere Qui Che io Abbia Da Poter scrivere Qualcosa Sì Oppure Potrei Anche Cominciare A Decorare Un po' Qui Ecco Volevo Provare Subito Queste Stelline Stelline Sappiamo Che non Sono Stelline E Prendo Di Nuovo Questo Mogano Mogano E faccio Un po' Di Qui Ma che carino Devo dire Che È un po' Natalizio Non so Ricordano Le stelle Ups Comunque carine Devo riuscire A fare Anche qualcosa Poco Poco Allora Qua Sono Andata Un po' Sfumiamo Il Bordino Questo Un po' Di Colore Ok Steghiamo Un po' Ho messo Anche in ordine Tutte le mie Stoffe Questa L'ho presa Sempre da Amazon Sono tutti Dei Quadratini Di Stoffa Io pensavo Possero Un pelino Più Grandi Ma va Bene Perché Voglio Solo Serve Solo Per fare Dei Piccoli Particolari Almeno A me Come Qui Magari Voglio Fare Una Strisciolina Da mettere Qua sopra Quindi vado a fare Qua Prendo un pezzettino Siccome Le mie stoffe Alla fine Poi sono Tutte uguali Ho optato Per prendere Questi quadratini Più Particolari Cambio Ti 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 Grazie a tutti. Ci metterei anche un pezzo di pizzo, ma questi li avevate già visti, anche questi vengono da Amazon, e anche questi non mi ricordo assolutamente quanto li ho pagati, benissimo, e tra l'altro questi qui li voglio colorare un po' con, magari provare con i gelatos, perché sono tutti proprio bianchi bianchi, quindi è vero anche che basta passargli un po' di stress, ma vabbè. Allora vado a cucirlo a macchina questo, gli faccio un po' di cuciture sopra, ecco qua. Allora vi dicevo di Gaila Agostinelli, lei fa tutte queste cosette qui, ma anche Roxy Creation fa tutte queste cosette qua che a me fanno impazzire. Ecco, allora subisco l'influenza di queste creature magnifiche. Adesso non so perché sto usando sempre questa colla, perché comunque anche il vinavil qua poteva abbassare. Direi che come taschine potremmo quasi essere a posto, c'è il suo pennacchio, ok. Allora, a me qua piace così, senza troppo decorare ancora, perché poi uno decora anche man mano. Qua c'è una taschina e vediamo se ci sta questa tag, direi di no, perché è molto piccola, forse questa, direi di sì. Anche se andrebbe da parte a parte, sarebbe bello qualcosa che arriva fino al fondo, ma no, 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 questa è ancora un po' bagnata. E allora la facciamo, facciamo qualcosa che arrivi da parte a parte. Secondo me è carino, no? Ok, direi che questa va bene, così com'è. Facciamo qualcosa. Lo raddrizzo magari solo un po'. Perché questo qua è la pastiglia, la medicina del mio cagnolino. E allora, tutto, tutto, tutto si usa, eh. Vado solo a raddrizzare un po' qui. E qui. No, troppo poco. Ecco qua. Allora, questa qui ho preso a togliergli la parte, anziché scartavettrare o cose del genere, gli tolgo sempre questa parte, e così, butto via quella parte lì. Ok. Poi di qua mi piace anche come resta tipo vellutato. Allora, vado a fare, non so, una card, perché poi lì non è che ci sia tantissima roba, eh. E allora, andrei proprio solo a fare una cardina. Allora, vado a fare, non so, una cardina. Allora, vado a fare, non so, una cardina. Allora vorrei mettere questo però la taschina è molto stretta e ho paura che sarebbe dannoso metterci questo quindi ci metto solo un po di zanza io la chiamo zanza questa la posso chiamare zanza un po di questa retina 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 lo faccio asciugare bene perché se no si alzano tutte queste parti magari vado a incollarla un po meglio anche ok vieni 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 ok allora qua sotto c'è ancora un piccolo elemento qua c'è una clip così che resta fissa qui non so se la vedete è una piccola raccolta di pezzi di carta cucita qui mi sembrava carino ok ragazzi io per il momento vi saluto tanto vedete bene o male sto facendo video tutti i giorni spero di continuare e visto che ci sono stati che ci sono stati i commenti prima ho paura che venga un video esageratamente lungo quindi io niente vi ringrazio di essere state con me ma grazie davvero dal profondo del cuore vi mando un mondo di baci e tanta tanta positività e ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti ciao a tutti